Ciao a tutti! Volevo farvi vedere il Mercury Tower in questo video. Questa è la Mercury Tower. Questo è tutto l'altro pezzo. Dove c'è un centro shopping, distretto di shopping, appartamenti di lusso e verrà un mai hotel pure. Siamo a Pace, vedo San Julio. Questa è una scalunata dove i disabili possono accedere facilmente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!